salve a tutti sono mattia per le amiche più intime Matti Oschi e sì siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio nella cantina di Mos Eisley c'è un leggero ritorno audio non so da parte di chi ma d'altro canto oggi è così siamo arrivati siamo emozionati dobbiamo parlarvi di un film incredibile c'è la degna conclusione di una saga epica finalmente siamo arrivati al film preferito da gran parte della chat noto ovvero l'ascesa di Skywalker credo avremo da dire qualcosina è qualcosina qui e là e lo facciamo assieme al cast completo manca solo Victor che sapete una presenza un po' fugace alla fantasma della forza lui arriva ci dice la sua poi scompare non può intervenire troppo sul fato sul destino ma abbiamo i nostri cavalieri Jedi cominciamo a dare il benvenuto e infatti eccolo che arriva cominciamo a dare il benvenuto a Giovanni di Star Wars libri e comics salve salve a te salve agli ospiti salve a tutta la chat oggi mi ritrovo insomma per cause di forza maggiore in una location un po' diversa un po' di luce divina alle mie spalle comunque il nickname che ho adottato penso che renda già bene l'idea di cosa penso di questo film insomma splendido abbiamo poi Dark Andrus eccolo buongiorno buongiorno a tutti i meravigliosi signor Matioschi gli ospiti che sono già stati annunciati e quelli che verranno annunciati io appena verranno annunciati gli ospiti parlerò e voi mi farete l'onore di ascoltare va bene abbiamo poi Roby Rani che sta mangiando un gelato particolare aspetti che non la sentiamo ha mutato il suo microfono per oscuri motivi eccomi qua scusate sono di fretta chiedo scusa sto finendo di mangiare è l'ultima volta porca paletta mi dispiace un sacco e cercherò per quanto è possibile di farvi cambiare un po' idea oh che meraviglia che meraviglia abbiamo poi il signor Emilio di Unbounce ciao a tutti e grazie ancora per questo ultimo purtroppo appuntamento perché per me è stato un viaggio un percorso bellissimo quindi sono felice di essere qui io un po' meno per il film di cui parleremo perché a me non è che sia piaciuto un gran tanto però è bella la compagnia con cui condividerlo quindi cominciamo ascoltiamo Andros che è solo l'ultimo quindi ascoltiamo in realtà c'è qualcun altro è arrivato Ben ciao Ben ciao Vittor oggi ci divertiamo ma ci divertiamo per davvero ma proprio tanto credo di sì non so se sarà un divertimento una disperazione ma credo più un divertimento ma c'è Andros che deve fare una dichiarazione un monologo se l'è preparato no no ma in realtà in realtà è una cosa molto semplice voglio farlo sia in apertura che in chiusura volevo dire che io oggi sono molto triste vi dirò la verità sono molto triste non tanto per il film di cui si andrà a parlare ma anche se ma qualcosina qualcosina sì ma in realtà sai diciamo che Star Wars Episodio 9 sono come le ultime lacrime d'amore versate per una storia che ormai è finita quindi sono le meno amare paradossalmente sono le più liberatorie ma le vere lacrime secondo me ci sono per la conclusione di questa retrospettiva perché per me è stato un viaggio bellissimo durato quante settimane? Tante perché sono tre caspita nove più due undici undici settimane che ci teniamo compagnia il mercoledì pomeriggio è stato qualcosa di meraviglioso ne parleremo sicuramente alla fine però io volevo ringraziare tantissimo tutti gli ospiti che sono stati veramente dei compagni di viaggio straordinari e veramente sono state alcune delle scoperte perché non c'è altre delle riscoperte positive come se non che prima fossero negative per carità che quando uno dice così sembra sempre che prima in realtà faceva schifo invece no assolutamente ma soprattutto voglio ringraziare il signor Matioschi per questa bellissima iniziativa che ha avuto grazie mille grazie mille davvero di cuore perché è stato bellissimo grazie a voi grazie a voi ma aspetta prima di dire è stato bellissimo qui dobbiamo capire no no volevo dirlo proprio prima perché così poi potevamo andare io direi che lo scoglio più duro e importante è stato superato settimana scorsa oggi vedremo un po' io vado in ordine di schermata e procedo con la domanda di Rito quindi la prima visione di questo film che comunque era circondato da grande attesa si tratta pur sempre di episodio 9 della conclusione della saga così veniva proposta nei trailer non ci si limitava a dire conclusione di trilogia ma proprio dell'intera saga degli Skywalker quindi signor 47 ecco ho visto che qualcuno se lo chiedeva in chat 47 e la citazione a 47 morto che parla film di Totò quindi datevelo anche a vedere è molto simpatico comunque al di là di questo dunque io sono andato in sala che avevo grandi aspettative perché come sapete a me episodio 8 è piaciuto un sacco ero un po' dispiaciuto che ci fosse stato l'ennesimo cambio di regia l'ennesimo cambio in corsa però tutto sommato mi sono detto dai JJ Abrams ha fatto un episodio 7 che non mi aveva fatto impazzire ma che trovavo un film carino tutto sommato quindi ho detto nel peggiore dei casi sarà un film carino non sarà una merda e invece allora è stato il primo film di Star Wars che ho visto ne ho visti 5 al cinema questo è stato l'unico in cui non c'è stato neanche un applauso alla fine zero c'è stato un tentativo di applauso hanno abbattuto le mani in due o tre basta stop nessuno nessuno si è poi azzardato io ero letteralmente senza parole nel senso che non sapevo dire se mi fosse piaciuto o meno questo film perché perché da un lato trovo trovavo e trovo ancora che la storia in sé di base diciamo così proprio a grandi linee potesse anche essere interessante c'erano due o tre stronzate però vabbè quello insomma ci si può anche passare sopra se sono le uniche due o tre comunque la storia a grandi linee poteva anche andare bene ma la realizzazione è veramente terribile a mio parere veramente pessima e quindi niente sono rimasto veramente la prima cosa che ho detto è non riesco a capire se sia bello o se faccia schifo questo ero ancora seduto sulla poltrona nel momento in cui sono salito in macchina ho detto no fa schifo mi è proprio mi è proprio colpito l'illuminazione un po' come quella che ho adesso alle mie spalle e ho mandato degli audio incazzatissimo a tutti i vari compagni di redazione a star wars libri e comics amici eccetera ero veramente incazzato nero e niente adesso sono tutto sommato rassegnato perché nel senso se me sono fatto una ragione però eh bene non è un inizio beneaugurante signor Andros allora se la domanda di inizio è sempre com'è stata la prima visione eh certo certo la prima visione in compagnia peraltro in compagnia perché come al solito eravamo seduti tutti vicini vicini l'abbiamo messo insieme la prima visione è stata diciamo che una differenza che ho notato come ho detto prima per me episodio 9 sono le lacrime finali di una storia d'amore finita eh sono le ultime diciamo le ultime che sono quasi liberatorie da un certo punto di vista eh condivido condivido assolutamente quanto è stato detto finora eh perché tra i tre qui c'è un piccolissimo spoilerino di quello che poi dirò dopo tra i tre questo è forse per il fatto che ero abituato e mi sono abituato agli altri due quindi sai quando uno si abbassa lo standard così tanto allora poi dopo basta veramente un non nulla per farti dire che forse 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 fa meno schifo ma credo che sia semplicemente quello il punto la prima visione fu disastrosa eh siamo usciti siamo usciti e me lo ricordo dalla sala diciamo il parere generale era questo è stato il parere generale di tutti più o meno mio compreso ehm l'ho rivisto stanotte per la seconda volta non l'avevo mai rivisto questo per dirvi come andavano le cose stessa cosa che con l'episodio 8 perché l'avevo rivisto poi il giorno prima e brevemente perché poi lascio parlare gli altri poi ci andiamo andiamo nello specifico vi dirò questo film di questo film si salvano due tre cose come giustamente è stato detto ci sono l'idea di base non sarebbe neanche così male se proprio uno la vuole vedere da un punto di vista proprio molto 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 largo il problema è l'intera esecuzione il problema è l'intero progetto poi dopo ne parliamo perché dopo voglio spiegare questo punto però intanto voglio lasciare la parola agli altri ospiti allora passiamo a Roby che ha l'opinione più variegata quest'oggi e che quindi mi interessa molto allora sappiate che questo è molto in alto in classifica ve lo dico già però 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 c'è da fare una grandissima premessa che è anche molto personale riguarda molto me per cui difficilmente sarà condivisibile non voglio assolutamente fare il paraculo eccetera eccetera ma voglio essere il più onesto possibile per me di gran lunga per me sottolineo per me lo scrivo in maiuscolo il migliore di questa saga e mi è piaciuto anche molto di più della Prequel Trilogy ma per un motivo che non riesco ancora a decifrare innanzitutto è come diceva Andros cosa molto importante per giudicare questo film è l'ultimo capitolo di una saga nata e cresciuta male sempre per me e anche per molti per cui io la considero anche come chiusura di questi tre film la chiusura della saga è assolutamente indegna Star Wars non si meritava una trilogia del genere non si meritava un finale del genere si meritava tutta altra cosa ma dal non si meritava al si meritava onestamente è un grande mistero non saprei cosa non saprei dirvi come doveva essere il film degno per chiudere la saga sicuramente ci sarebbe stato Luke ci sarebbe stata Leia ci sarebbe stato Ansolo per come sono fatto io e via dicendo magari potevano morire qualche ora prima qualcuno di loro ma doveva terminare con il loro viaggio completo invece li hanno fatti uscire molto prima vabbè ma non è questo discorso la mia prima visione è stata strana perché la mia voglia di riscatto dopo quell'enorme incubo che è stato episodio 8 ma non a livello sarcastico a me ha portato proprio smaronamento litigi con alcuni amici addirittura credo che non ci sia neanche più considerazione tanto è nato questo questo di giuro ci sono alcune persone con cui si sono allentati i rapporti ma gente che ha mandato del fantossico cazzo se mi conoscete ragazzi i film che non mi piacciono sono un cibo in tutta la mia vita cazzo fantossico però mi aveva talmente mi aveva fatto talmente male talmente male che appunto la mia la mia speranza era di vedere qualcosa che mi piacesse per cui ero già predisposto in questo appena finito ero molto contento ed ero stranito del fatto che una parte di me non avesse considerato quelle decine di castronerie di cose tirate via che erano evidenti ma erano parte del processo di cose male era un mega tentativo di aiuto aiuto cosa abbiamo combinato sistemiamo questo torniamo alla vecchia facciamo questo cioè è proprio se c'è una cosa che posso dire di negativo di episodio 9 tra le tante che voi direte è che è tirato via ed è evidentemente palese che è proprio tutte cose a caso nel finale ecco quello che mi ha fatto veramente arrabbiare è che neanche alla fine cioè hanno fatto finta di cedere ma neanche alla fine hanno voluto capire cosa realmente avrebbero dovuto fare per cercare di tappare al meglio questo enorme buco orribile cioè dovevano mettere dovevano metterceli dal vivo dovevamo vedere almeno un secondo di fantasmi della forza lo chiamava il mondo intero questa cosa poteva essere un minimo di scuse che avrebbe secondo me salvato il salvabile è un po' come il finale di Endgame quando arrivano tutti che fanno il disastro dai portali secondo me dovevano ragionare nello stesso modo invece lì mi sono incazzato ancora di più perché ti faccio sentire le voci ma vai a cagare te le voci ma che cosa me ne faccio delle voci io no? per cui dopo tutto il resto Ray Skywalker onestamente non gli ho neanche dato peso cioè per me ormai era vabbè tutta sta confusione però allo stesso tempo questo capitolo 9 ha quel fattore di Star Wars in maniera anche bella evidente nonostante non riesca a capire cosa sia che avevo finito in episodio 7 completamente assenti in episodio 8 e che mi riporta alla trilogia classica ci crede un po' di più è un po' più drammatico nonostante alla fine non muoia nessuno c'è qualcosina di più che mi ha coinvolto molto di più degli altri film precedenti e anche della preco il trilogia l'unico modo che posso descriverlo è in questo modo però detto questo apriamo i calcelli del tisano ma dopo guarda dopo che hanno finito gli altri ospiti credo di aver capito che cosa intendi però prima voglio far finire gli altri però ci torniamo ho delle sensazioni signor Emilio io ho fatto un po' fatica a vederlo perché come vi ho detto ho avuto una crisi epilettica a marzo ho detto dai vado a vederlo e ovunque c'era a Disney avverte crisi epilettiche per episodio 9 quindi se il neurologo mi fa sì perché l'inizio di questo film io forse non ce l'ho fatta l'ho visto così al cinema è vero perché avevo una paura avevo i test neurologici per riprendere la patente io sono ancora 25 mesi che non guido e lì ero per andare alla commissione medica vi giuro quindi l'ho aspettato ormai avevo visto la recensione no spoiler di Victor eccetera ho sentito quindi a fine quando sono andato in sala sapevo un po' cosa aspettarmi sono andato l'ho visto e non mi ricordo un gran che nel senso l'ho rivisto ieri sera e ho capito una cosa questo film a me è indigesto è come le abbuffate che ti fai a Natale o Pasqua quando non c'era il Covid che potevi abbuffarti cioè all'inizio va bene già il crawl i morti parlano è già una botta da mandar giù arrivi 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 a metà film e lo reggo dopo un certo punto basta è troppo arrivo alla fine per il dolce l'amaro quando arriva a Rieska e Walker io voglio la bottiglia intera per chiudere e quindi non ho un buon rapporto non mi è piaciuto però ormai è arrivato lì e l'ho detto dopo l'otto mi sono fatto piacere l'otto mi ha detto io scendo qui scendo con gli Oxy Walker ho visto la trilogia sequel per lui non mi interessano i personaggi nuovi io scendo qui mi vedrò il nove ma non mi aspetto niente di più niente di meno quindi per me quello che è uscito era quello che ormai si poteva fare come ho detto Robby ha un salvato il salvabile meglio non potevi fare peggio forse sì non lo so però non mi sono arrabbiato l'ho visto scendo dalla sala ho detto bene l'ho guardato per non rivederlo più credevo poi ieri sera l'ho rivisto saltando buona parte della seconda metà interessante signor Victor abbiamo visto il film assieme la prima volta anteprima ma c'era anche Robby in sala credo solo che non ci conoscevamo ancora no 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 era l'anteprima era l'anteprima signor Victor era la prima volta anche per lei era l'anteprima è ragione era vero era l'anteprima anche perché ricordo un parere che gli espressi più o meno dopo un quarto d'ora ricordo tutto io penso di aver iniziato a morire dentro i morti parlano tra l'altro posso sentirmi insultato all'idea che il famoso messaggio di cui parlano nei titoli di testa che scorrono verso l'alto è stato in realtà esiste si può recuperare ed è stato mandato in anteprima su Fortnite sì è vero posso si può recuperare anche nel romanzo per fortuna però sì però il romanzo di base l'ha mandato su Fortnite ed è una roba non è audiovisivo il romanzo no no ma infatti è ridicolo no ridicolo no perché alla fine è marketing quindi posso anche capirlo magari mettimelo anche nel film però non mi dà fastidio che lo metti su Fortnite prima ma non che io devo andare io a Fortnite ci gioco anche ogni tanto mi diverte però in quel periodo non ci stavo giocando più di tanto francamente trovo ridicolo che per vedere è vero che te lo spiegano quindi non è che c'è bisogno però già che è una cosa stupida almeno questa cosa stupida fammela vedere non riservarla a chi gioca a Fortnite perché ad esempio io non penso che un Robby giochi a Fortnite dico bene quindi tu non avresti avuto modo di di recuperartelo scusami cioè io anche io infatti me lo hanno detto poco fa in chat davanti alla mia diretta non lo sapevo io sapevo che c'era stata una sorta di pubblicità su Fortnite non lo sapevo era il famoso era una scena con il famoso messaggio di Palpatine su Fortnite in esclusiva la trovi su YouTube dimmi te se è possibile è ridicolo è ridicolo che l'abbiano mandato solo su Fortnite non tanto che l'abbiano mandato lì perché se lo mandi lì e poi lo metti nel film chi se ne frega se me lo mandi lì non c'è nessun video non c'è nessun video ufficiale della cosa è tutta roba registrata da chi ha giocato e secondo me è una cosa assolutamente vergognosa non per Fortnite in sé perché ripeto io non sono di quelli che dicono ma Fortnite piace è divertente ci gioco mi diverto però trovo assurdo e il film per me è semplicemente terrificante è come cagare ma veramente su tutto quanto sulla saga perché per quanto episodio 8 possa non piacere si vedeva un impegno si vedeva un cercare di poiché si è riuscito no quello è un altro discorso può non piacerti però si vedeva che c'era l'idea del regista dietro uno può non apprezzarle va bene qua c'è solo l'idea c'è solo l'idea del oh no e adesso cosa facciamo aspetta aspetta visto che mi hanno ammazzato Snoke mettiamo Palpatine a caso completamente a caso poteri che non sono mai stati manifestati da alcuni personaggi che si manifestano qui l'unica cosa che funziona davvero in questo film di merda è Babu Freak Babu Freak è la cosa più bella che abbia visto in Star Wars basta riesco a guardarlo solo esclusivamente per la presenza di Babu Freak perché è esattamente ciò che cioè incarna ciò che è lo spirito di Star Wars ed è anche un pupazzo non è neanche in CGI quindi apprezzo ma a parte Babu Freak questo film è una merda è bruttissimo a me purtroppo sta sulle palle pure Babu Freak no a me piace ma non è tutto lì Babu Freak ma non solo non solo qua stiamo parlando ancora di una tendenza di Disney che io gliela estirpo perché mi hanno veramente rotto le palle che è questa cosa del fare i trailer ingannevoli avete rotto i coglioni con i trailer ingannevoli basta con C3PO con gli occhi rossi cosa succede oddio è cattivo no lo stanno semplicemente resettando per fare una gag eterna che non finisce fino alla fine mi ricordo Ray che cedeva al lato oscuro e per una visione di merda di due secondi era una visione sì ma poi io poi credo che la ciliegina sulla torta sia proprio il dialogo finale come ti chiami Ray Ray chi sembra chi è che affoga schifatteru fa può fare lo spelling sembra quella roba lì ma c'è ma che c'è sta vecchietta a caso chi sei Ray Ray chi fatti i cazzi tuoi ma sono per farle dire Ray Skywall come disse all'epoca Danny in una galassia dove un sacco di personaggi hanno un nome solo non hanno il cognome tra l'altro il fatto il fatto è che è palesemente per farle dire Ray Skywalker con tutti gli espedienti narrativi che esistono la vecchia che la ferma nel deserto ma per favore sembra una cazzata ma no perché è proprio rappresenta in pieno la mancanza di impegno e di voglia che ci hanno messo per scriverlo è vero io vi dirò vi dirò ci saranno alcuni punti dove vi stupirò oggi perché il punto secondo me è questo tutto quello che avete detto avete perfettamente ragione io sono assolutamente d'accordo io non riesco a essere troppo cattivo con questo film in particolare attenzione perché voi sapete che il mio il mio disappunto è proprio sull'intera trilogia sequel proprio perché in questa trilogia sequel c'è un problema enorme secondo me che sono fondamentalmente i nuovi personaggi i nuovi personaggi che non vengono sviluppati tre quarti dei problemi si hanno proprio perché i personaggi non vengono sviluppati l'unico che ha un minimo di sviluppo è Kylo Ren ben solo lui è l'unico che ha un minimo di sviluppo ma minimo attenzione non è che stiamo parlando di lo sviluppo mamma mia che ha avuto Luke Skywalker nell'arco della trilogia lui capisci le sue intenzioni lo vedi all'inizio è un pirla poi dopo è così poi rimane un pirla poi rimane un pirla ok va bene e ci siamo il vero problema è questo quello che diceva prima Robby c'è sul fatto che c'è quel qualcosa di guerra stellare in questo film io vi dirò la verità di tutta la trilogia nuova la merdilogia io la chiamo così episodio nove è l'unico dei tre film tolti ovviamente Rogue One e Solo dove io all'interno ho visto delle cose veramente della vecchia trilogia negli altri due io ho visto nel sette io ho visto fanservice stop ma era fanservice tra l'altro anche fatto male dal mio punto di vista personale ovviamente fatto male l'otto una cosa del genere infatti se notate quando parte episodio nove sembra sconnesso con gli altri due lo è certamente lo è per forza il punto qual è o cancelli i primi due prendi il terzo e ipoteticamente nella testa e ti rifai nella testa dei primi due che siano collegati al nove e allora può anche avere un senso cioè se tu sviluppavi una trama perché il nove ha una sua trama che dice no 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 non sentite aria di rivalutazione completa state tranquilli perché vedevo in cazzo no 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 non sto dicendo che sia un bel film assolutamente voglio ricollegarmi un attimo a Andros ok prima vi dico la mia finisco solo allora finisco solo questo punto qui velocissimo io non sto dicendo che sia un bel film assolutamente voi sapete che io odio questa nuova trilogia cioè odio non mi piace assolutamente diciamo che riesco a capire riesco a capire quello che diceva Robby prima lo riesco a capire in questo film ci sono due scene cioè c'è la scena la scena flashback vi dico solo questo cioè quella scena flashback Yuki e Leila solo quella cioè quello era quello che la gente cioè io avrei voluto vedere un film così si perdono in mezzo a quello che diceva Vic è palesemente un ammasso di corse di tentativi di aggiustare un vaso ormai a pezzi ed è evidente allora io credo che forse si possa apprezzare il film si possa sentire una vibrazione aggiuntiva da Star Wars perché secondo me Abrams è il regista giusto poi a livello di sceneggiatura lì ci sono i problemi ma proprio a livello visivo secondo me è il regista giusto anche più di Rian Johnson che magari tecnicamente sarà più bravo ma che secondo me gli ha dato uno spin che non c'entrava granché quindi forse per quello infatti ho elogiato episodio 7 tra virgolette elogiato proprio perché secondo me a livello registico richiamavo un po' l'impostazione classica per il resto io ricordo la frase detta Victor dopo un quarto d'ora ma sbaglio o questo film è montato col culo lui mi guarda e mi risponde sì cioè un film con un montaggio disastroso soprattutto nella prima parte soprattutto nella prima parte la prima parte è terrificante dal livello di montaggio si passa di palo in frasca senza soluzione di continuità ovviamente il difetto primario è stato già detto da tutti questa è una trilogia veramente sconclusionata arriva Abrams imposta una linea guida che può piacere o meno a seconda dei gusti arriva Ryan Johnson la Lucas film da libertà creativa lui fa il film che vuole lui aggiudicare dalle voci di corridoio infischiandosi allegramente degli appunti di Abrams ricordiamoci che episodio 9 doveva dirigerlo Colin Trevorrow e non Abrams quindi Abrams è stato messo lì all'ultimo scusatemi ma questo film mi fa male ha cercato di fare quello che poteva e sotto precisa indicazione a mio avviso cerca di riportare tutto a come avevano deciso di fare inizialmente perché episodio 8 ha diviso il fandom e quindi è evidente che Palpatine sia il sostituto di Snoke e che vengano riprese delle sottotrame palesemente tralasciate di episodio 8 per dirne una Finn è palese che Abrams volesse renderlo sensibile alla forza qui lo inserisce come simpatica gag il gruppo di protagonisti la caratterizzazione di episodio 8 viene azzerata si ricomincia dal 7 Kylo Ren ritorna indietro è tutto un tentativo di riprendere i fili narrativi di episodio 7 ora dal punto dal punto di vista di Abrams tra virgolette dagli torto dal punto di vista della trilogia generale è veramente una ciofeca anche perché si aprono veramente dei crateri logici all'interno di una saga composta da 9 episodi a mio avviso imperdonabili io ero entrato in sala con le aspettative sotto i tacchi perché episodio 8 mi aveva deluso un po' ero della stessa logica di Emilio morto Luke cosa me ne frega di sti qui nuovi mi ha deluso nonostante tutto non pensavo di arrabbiarmi un po' invece una leggera arrabbiatura c'è stata nonostante il nichilismo più totale io avevo detto addirittura adesso ti faccio dire in faccia di nerd addirittura dissi se Kylo e Rey si baciano io esco dalla sala il problema è che è arrivato alla fine il bacio quindi ormai era troppo tardi ma per dirvi mi dica Andros sai che cos'è il fatto e qui anche capisco cosa diceva Robby e capisco quello che dici tu perché io sono comunque negativo su tutto l'unica cosa che a me personalmente e che ripeto avendolo rivisto stanotte per la seconda volta prestandogli tra l'altro anche un'attenzione diversa quindi un'attenzione da seconda visione perché mi ero categoricamente rifiutato prima i personaggi nonostante la fine che gli hanno fatto fare a tutti quanti quelli classici perlomeno riacquistano un microscopico velo di dignità microscopico ma cioè no no parlo di attenzione parlo di microscopico insomma secondo me la scelta di utilizzare gli spezzoni di Leia non si è rivelata proprio non sto parlando allora diciamo sai cos'è il fatto è che nonostante questo Leia in episodio 9 lascia stare che giustamente perché non c'era più l'attrice poverina era l'unica che veramente era venuta a mancare nella realtà tutti i tre personaggi che compaiono nel film effettivamente parlano si muovono e dicono cose che in potenza se tu cancelli per un secondo dalla testa quello che è successo nei due film precedenti ipoteticamente li cancelli per un secondo sai soltanto che due sono morti e uno è lì che sta per morire quello che fanno ha un senso se tu lo prendi singolo se tu lo metti all'interno di tutto il calderone è lì il problema poi il fatto che tutto sia una cagata pazzesca siamo d'accordo al 100% io leggo in chat in italiano questo problema non esiste perdonatemi ma qui Leia e Alexa anche in italiano c'ha le frasette preimpostate dei cioccolatini perugina perché erano frasi decontestualizzate di episodio 7 secondo me dovremmo sconfiggere Palpatine in quadratura su Leia sì è così ragazzi adesso va bene ma io ricordo grandi ironie all'epoca purtroppo non ha un effetto ovviamente cosa potevano fare non lo so ma secondo me il risultato non è stato eccellente secondo me il risultato è farlo in CGI a me è veramente buono ma sì io avrei fatto lo so che sarebbe stato anche qui un rospo duro da digerire io piuttosto avrei fatto un recasting io non l'avrei messa oppure morta per morta muore tra un film e l'altro boh non lo so tanto l'effetto della confusione c'è uguale anche con lei viva a quel punto lì sì assolutamente ma sai cos'è che tre quarti dei difetti di questo film tolta la questione montaggio che lì è proprio un errore tecnico sono difetti derivativi sì perché derivano dai due film precedenti ecco perché questo film tecnicamente non può essere preso da solo perché è eccessivamente derivativo e cosa che tra l'altro non è stata fatta prima perché non è stata fatta prima questa cosa non si sente lo stacco che si sente per esempio tra episodio 2 episodio 3 o tra episodio 5 episodio 6 che c'è uno stacco grosso potente tra i due qui non si sente quello stacco qui siamo passati tre giorni quello è il problema anche a livello narrativo io adesso non voglio aprire l'antica polemica sul recasting che è una cosa considerata tabù da molti quando l'abbiamo vista in 3000 film trilogia di ritorno al futuro c'è il recasting della fidanzata di Marti vabbè vero che sarebbe stato in episodio 9 questo recasting un po' bruttino ma piuttosto che averla lì in versione Alexa ma più che altro più che altro Matteoschi episodio 8 finisce che lei sta praticamente passando il testimone a Ray veramente si poteva cominciare l'episodio 9 con il funerale sì è vero sarebbe stato un momento anche forte secondo me perché parte con un ritmo giusto parti che il fan percepisce questo meta funerale che avrebbe reso merito anche all'attrice avrebbe avuto forse dicono recastare lei è indegno secondo me è stato molto più indegno il trattamento che c'è stato qui però sono punti di vista sono punti di vista per carità vorrei fare una cosa scusatemi una cosa sola perché sto cercando sempre di capire perché a me è piaciuto molto se faccio se conto le scene belle che reputo scene belle lasciate stare il contesto lasciate stare la rabbia ma le scene belle questo episodio 9 ne ha veramente tantissime per il mio metro tutta la parte iniziale del falcon che fugge il combattimento sulla morte nera tra re e kailo secondo me è uno dei punti più alti dell'intera saga per me non esagio sono ben convinto di quello che dico il momento in cui re fa partire i fulmini dalle mani la drammaticità di questa finta morte di ciube quello mi ha fatto incazzare a quel punto lì abbi il coraggio fai uccidere fai morire ciube che lì mi hai fatto male e invece facendolo ritornare dici ah vabbè figata è vivo però ho capito però va bene siamo alla fine i miei pensieri sono rivolti ai membri del convoglio distrutto da rei che passavano di lì per caso era un'allegra famigliola ma sì andiamo in visita sul pianeta distrutti per nulla i miei pensieri sono rivolti a loro sì sì quello dici quella scena quella lì distruggi un convoglio per sbaglio che cazzo c'era lì sopra e ve lo sono sempre chiesto sempre del primo ordine era sempre andiamo cosa succede morti così ma questo poi scusate sia lei sia Ray cioè lei sia Kylo Ren nessuno dei due si rende conto che ce n'è un altro di convoglio sono lì a fare il tiro alla fune quelle sono tutte robe quelle sono tutte robe che per uno come me arrivate dopo episodio 8 cioè probabilmente io non le ho neanche volute vedere capito per cui ho cercato tutti i modi di ripescare quella voglia di vederlo e alla fine ha funzionato nonostante secondo me abbia finito tipo ieri riguardavo Harry Potter ho finito con i doni della morte 2 il finale è identico a Harry Potter che uccide Voldemort è uguale è uno schifo è uno schifo cioè con le due spade io sono più potente di te ma porca puttana ma falli combattere la gente vuole la gente voglia i Jedi che combattono mi fai vedere Palpatine alla fine e lo uccide disintegrandolo con le due spade incrociate quelle sono cose che quella non lo manderò mai giù tutto il resto alla fine chi se ne frega è un pasticcione però molti di voi dicono un film non è solo scene belle cioè un film è anche scene belle poi a seconda del vostro stato mentale del vostro stato come posso dire emotivo deciderete voi che è importante diciamo che il problema è il tessuto connettivo mettiamola giù così il problema è che i personaggi sono tutti dei coglioni perché obiettivamente ma è vero non hanno la minima logica non hanno la minima logica non è vero è verissimo non hanno la minima logica Joe è da episodio 7 che è così è quello che dico io lo dico da sempre qua è peggio allora io vi faccio un esempio vi faccio un esempio se mi permettete allora Pasana ok Ciube stai giù perché qua ci sono sempre pattuglie del primo ordine il festival di Quacella ricordiamolo sì 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 che tra l'altro è l'unica allora è l'unica cosa diciamo di world building che mi è piaciuta molto devo dire comunque stai giù perché qua ci sono sempre pattuglie del primo ordine ok lui si mette giù intanto è già più alto della gente normalmente vabbè serve a niente poi c'è la la visione c'è la scena della telefonata Skype tra Ray e Kylo Ren in cui lui le strappa la collana tempo tre secondi hanno scoperto dov'è il pianeta ok andiamo no ma un momento due secondi dopo vengono beccati da una pattuglia del primo ordine e nel frattempo dall'altro lato cioè girato l'angolo ce l'ando no come l'ha riconosciuto un walkie svetta tra la folla gli hai appena detto di star giù questo tra l'altro sta giù 30 secondi poi si rialza è alto 8 metri ovviamente no è alto 3 metri quanto è alto poi quelli del primo ordine li beccano non chiamano Kylo Ren gli dicono guarda che qua ci sono i ricercati no no lui tranquillamente l'ha scoperto altrimenti questi li avrebbero inseguiti e basta ho capito a te è piaciuto episodio 8 se mi fai notare questa roba di episodio 9 come fai a farti piacere questo è il problema vedi te lo sento hai ragione Giovanni hai ragione ma se mi fai notare questa cosa come fai io sono coerente mi hanno fatto cagare tutti e due io mi hanno fatto cagare tutti e tre quindi nel senso siamo a posto no è verissimo perché guarda ma possono essere per me per me questi tre film hanno tre cose la prima è negazione episodio 7 è negazione pura sono le fasi del lutto episodio 7 è negazione io infatti vi ricordate sono uscito ho detto no non è vero il secondo il secondo è stata rabbia quindi episodio 8 è stata rabbia perché mi sono incazzato la terza è rassegnazione io sono rassegnato in episodio 9 perché episodio 9 è l'inganno finale episodio 9 sono delle immagini belle inserite in un contesto di merda scusatemi perché questa è una trilogia di merda scritta male con i piedi no 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 è scritta con i piedi ok questa trilogia io ho cercato prima di essere calmo semplicemente per il fatto per il fatto che volevo sognare semplicemente di essere in un universo alternativo dove qualcosa sapevano fare un universo è una trilogia scritta male quindi cioè praticamente c'è scritto invece benvenuti al cinema c'è scritto malvenuti perché era una sofferenza ok guardare questo film ma soprattutto tutto tutto non ha senso hanno fatto dire quello che ho detto prima semplicemente hanno fatto dire ai personaggi classici quelle due tre frasi che avrebbero dovuto dire sono sono delle delle come si dice che cercano di sistemare il casino che hanno fatto fare a quello prima di portare quando c'è anche Luke Skywall che dice bisogna portare rispetto per le persone ma in episodio 8 sei scusate mi chiedo scusa stiamo parlando in contesto algoritmo sei un vecchio ubriacone rincoglionito su una ubriaco di latte di Targ che neanche esiste perché esiste in Star Trek quella roba lì su un'isola deserta non in 30 anni non hai fatto un cazzo ti sei ritirato tutti i personaggi sono andati a a Ramengo qui cercano di dargli un senso ma perché io dico se volevate fare una cosa del genere ma anche Abrams cioè voi mi dite Abrams era adatto no non era adatto perché episodio 7 non andava bene se tu volevi arrivare qui se quello era il suo non andava bene ecco l'è il vero invece secondo me sì che andava bene perché con la base Star Kill scusami un secondo Mattia con la base Star Kill il pianeta che diventa quello è un problema però i problemi fondamentali di questo film avevano senso nell'ottica secondo me di una trilogia unitaria Palpatine non ci sarebbe stato ci sarebbe stato Snoke secondo me con origini separate gliel'hanno ammazzato chi cazzo metti ma in realtà non so se hai visto la sceneggiatura anche solo il riassunto della sceneggiatura di Trevor che in realtà sarebbe stato proprio Rey contro Kylo Ren alla fine semplicemente tutto il film era quello che non voleva però Kennedy perché doveva esserci la redenzione di Kylo Ren ma ci sarebbe stato lo stesso ci sarebbe stato lo stesso sì sì volevo solo dire la seconda cosa per lasciare meglio anche la questione di Luke che qui viene raffazzonata no no in realtà lui stava cercando poteva essere una spiegazione data in episodio 8 no no io sembra che sono andato a nascondermi in realtà sto cercando questa cosa non posso coinvolgere gli altri perché è troppo pericoloso vi ricordo che in episodio 7 a un certo punto R2 si attiva quindi ho sempre pensato che fosse stato Luke a mandargli un segnale attivati al momento giusto cioè la scelta di renderlo isolato dalla forza che non vuole più essere coinvolto non l'ha fatta Abrams Eddie Johnson per questo vi dico che qui è un tentativo raffazzonato di ritornare indietro sai cosa Mattia bello il tentativo manca un film in più manca un film in più manca un film in più bello il tentativo di voler di voler riunire perché episodio 9 vuole riunire elementi della trilogia classica che hanno elementi della trilogia prequel ma io dico ma porca puttina ma se in 60 anni nessuno puttina ma se nessuno in 60 anni ha più parlato di sit perché nessuno ha più parlato di sit nessuno ha parlato di sit adesso fino a 5 minuti prima Ray era anche lei una lì mezzo che metteva insieme le viti adesso sanno tutti sanno dei sit anche l'ultimo secondino della ribellione che hanno messo lì anche quello che ha fatto il signore gli anelli come si chiama Pipino Pipone era Mary hanno messo Mary a fare il secondino lì perfino lui sapeva delle leggende dei sit tre P.O che salta fuori che conosce la lingua di sit però non la può dire però non la può dire e soprattutto si ricorda tutto anche delle sai però leggenda vuole c'è una frase che dice leggenda vuole nelle antiche leggende di sit cazzo non sa tre P.O delle leggende dei sit sentiamo Emilio che ho interrotto bruscamente scusa quello che ho provato al cinema mi sono accorto anche dei miei amici che seguono la saga solo cinematograficamente la confusione a un certo punto mi hanno chiesto ma mi sono perso un film perché non mi torna io ho perso uno spin off dovevo vedermi la serie Mandalorian che qui in Italia non era ancora uscita anche a me mancava perché c'era questa confusione ma la confusione di tutto perché è bella la scena del Millennium Falcon con i salti ok ma lì mi rompi la logica di salti i blocchi planetari i blocchi su una V1 non ha senso l'episodio 1 se puoi arrivare sul pianeta così non ha senso molte altre cose la diade che è sempre chiamata triade e qui infatti sono in tre perché sono tutti i Jedi Rey Ashla quindi la figlia sono tutti i Sith Palpatine quindi il figlio Pogan Kylo Ren è il padre quindi sono in tre comunque perché infatti svanisce come il padre in equilibrio c'è delle cose mi chiami Diade ok che mi stai chiamando Diade perché tu vedi loro due compreso anche a livello di lore che io guardo molto quella perché tratto quella più che recensione dei film non mi tornavano e non mi tornano ancora certe cose poi posso provare a giustificarle ma per me è tanta confusione c'era già nell'otto qui nel nove è purtroppo aumentata sotto quell'aspetto quindi il vero grande problema il vero Palpatine la vera ombra dietro tutto questo non sono né registi né attori è la Lucasfilm se Pinco Pallino avesse preso il brand di Star Wars se io avessi comprato il marchio Star Wars e io avessi fatto il film di Star Wars come un miliardario a caso avrei rispettato quel nome Star Wars avrebbe avuto un valore in casa loro invece se ne sono approfittati facciamo ma sì ma sì hai un esempio in casa ha lavorato un miliardo di volte il Marvel Cinematic Universe che sta spaccando il mondo nel bene o nel male sta spaccando il mondo prendi quello come esempio hai Kevin Feige che è in casa trova un pinco pallino qualunque l'ha fatto Lucas con la trilogia classica e ha funzionato fallo di nuovo prendi uno con i maroni ma Roby lo ha fatto lo stesso Abrams quando ha fatto il reboot di Star Trek lui in quel caso lì è andato a prendere Roberto Orci che è uno con due palle così e che Star Wars Star Trek se lo mangia a colazione infatti i primi due il terzo magari un pochino meno beyond ma se tu guardi il primo è Into Darkness hanno due palle così scusatemi purtroppo tantissimi li criticano i Trekker i Trekking non voglio offendere nessuno odiano il Kelvin Universe io quando ho saputo che Abrams aveva preso in mano Star Wars ho detto se fa solo il 50% di quello che ha fatto con Star Trek ma mi ha aiuto viene giù il mondo non c'è neanche arrivato al 5% di quello che ha fatto con Star Trek perché hanno approfittato del loro nome invece non dovevano approfittarci non dovevano elevarlo essere onorati di poter fare qualcosa e si vede perché vedi lì innanzitutto hanno usato l'espediente che volendo potevano usare anche qui ma potevano fare tantissime altre cose con Star Wars che non hanno mandato in vacca tutto il canone perché hanno detto ok è un'altra timeline perfetto ma perfino in un'altra timeline i personaggi sono loro cioè tu lo dici questo è quello lo farebbe Kirk lo farebbe Spock sì qui Luke Skywalker lo farebbe no esatto bravo fine il reboot mantenendolo nello stesso universo nella stessa nello stesso canone cioè per me è un gran lavoro però vabbè passiamo alle super chat che sono tante ci danno modo di andare a toccare varie tematiche del film ringrazio tutti gli utenti che stanno mandando le super chat veramente iniziamo da Filippo Leiboschi che dà un nuovo titolo al film definendolo l'ascella di Skywalker effettivamente adesso in avanti lo chiamerò così Lorenzo Sbrilanci cita una serie abbastanza famosa cosa succede c'è su tutto degli attacchi da parte di micantropi Lorenzo Sbrilanci ci dice it's been Palpatine all along e purtroppo sì però vedi Mattia scusami un secondo anche se sta roba di Palpatine loro potevano virtualmente adesso ragioniamo per assurdo se loro fin dal primo avessero cominciato a sotto sotto che il male non era morto e che allora capito così allora te lo facevano crescere paradossalmente non lo hanno fatto perché non lo sapevano neanche loro è quello il problema infatti sono tutti errori esattamente sono tutti errori derivativi perché tu potevi virtualmente anche farmi ritornare Palpatine ma dovevi costruirlo qui non hanno costruito niente io adesso magari possiamo aprire la grande parentesi Palpatine che per me è uno dei problemi più importanti di questo film io non l'avrei fatto proprio tornare perdonatemi ma se torna Palpatine Vader che cosa ha fatto ma assolutamente d'accordo perché il grande problema di questo film è che la trama preparata anche messa in luce in sei film non è servita a nulla c'è la profezia del prescelto ma Anakin cosa ha fatto? nulla qual'equilibrio ha riportato Anakin? nessuno perché è caduto nel lato oscuro è diventato Vader poi si è redento in ultimo a cosa ha servito? niente ma non solo quello i fantasmi di forza alla fine che guardano Luke che nessuno gli fa guarda cosa festeggi è che Palpatine è ancora vivo tra l'altro sì ma rendiamoci conto che per quanto il film cerchi di correggere in ultimo no Rey si considera una Skywalker quindi alla fine il retaggio degli Skywalker a me spiace entrare in discorsi poi alla fine io non è che credo per forza nel genitore biologico alla fine il vero genitore è quello che ti cresce no? però è una cazzo di Palpatine cioè alla fine la minaccia di Palpatine è stata distrutta da una Palpatine gli Skywalker in tutto ciò che peso hanno avuto? zero Rey è stata addestrata per tre giorni da Luke e per sei mesi da Leia pensa un po' quanto l'hanno ci sono gli insegnanti la saga degli Skywalker devono fare i maestri ad altri posso chiedere questa vi faccio una domanda a voi perché io l'unico modo con cui ho interpretato questo Skywalker è per il fatto che lei alla fine questa diade si miscela con Kylo per cui lei è Rey Skywalker non so se mi spiego c'è Kylo Ren all'interno di sé per cui è di fatto una Skywalker cioè è l'unico modo con cui ed è comunque una roba che non è tirata via è di più però gli ho dato quel senso lì anche io me lo sono spiegato così dalla sua essenza vitale tiri fuori Rey Skywalker io credo che il messaggio fosse molto più banale e in realtà lei ha avuto questo legame con gli Skywalker e quindi lei si considera una Skywalker secondo me voleva anche essere un piccolo messaggio progressista nel senso che ho detto io in realtà i tuoi genitori sono quelli che ti crescono veramente però secondo me è una roba però vedi anche questa cosa qua anche questa cosa qui cioè questo cazzo è un potere enorme questa cosa qui fammelo crescere nel corso di questa trilogia il potere curativo fammelo crescere fammelo sentire per Dio non tirarmelo fuori così io ho sentito giustificazioni di ogni sorta sul potere curativo perché adesso noi stiamo parlando come di un film brutto ma all'indomani dell'uscita in sala si crearono gli schieramenti c'era chi diceva no in realtà è bellissimo ok scusami Mattia se ti interrompo perdonami perché adesso ti faccio incazzare definitivo con questa cosa qua scusami il potere curativo cioè noi abbiamo Fener abbiamo Sky Walker cioè gli hanno tagliato una cazzo di mano ok l'imperatore che torna non è in grado di curargli le bruciature non è in grado di tirargli fuori la mano questi beh non l'avrebbe mai fatto il problema è molto più sostanziale ora io ho sentito tante spiegazioni è la diade se non fosse che anche Baby Yoda riesce ad utilizzare questo potere che ad un certo punto io vi faccio presente che la conversione al lato oscuro di Anakin avviene perché lui ha paura che Padme muoia sì quando parla con Palpatine gli viene detto che c'era questo Sith in grado di plasmare Midichlorian di riportare in vita le persone il dialogo finisce con come posso apprendere questo potere non da un Jedi almeno per qualche film è una cosa che va a distruggere le fondamenta della saga se tu mi fai convertire Anakin al lato oscuro perché aveva paura della morte non è riuscito a salvare la madre cioè se entrava Baby Yoda lì trovava Jmi morente trac viva su questo posso spezzare una lancia invece in favore tutto secondo me tutto mi dicono che cura le ferite deboli ma Kylo riporta in vita a Rey ragazzi a costo della sua vita ma riporta in vita a Rey però appunto io qua spezzo la lancia Anakin non avrebbe mai sacrificato la propria vita per risuscitare Padme sì perché è troppo egoista secondo me è troppo egoista lui lui passa al lato oscuro per il desiderio di eh a parte quello per il per il desiderio di di possesso capito scusate scusami scusami tranquillo tranquillo non ve l'aspettavate così a tradimento a freddo scusate scusami tranquillo no secondo me Anakin non l'avrebbe mai riportata in vita a costo della sua stessa vita ho capito ma visto che si trattava comunque di una visione di una sorta di malattia in corso ma vedi con la manina la cura cioè la curi tutte le volte ma che te frega eh certo lì però è lì allora ci sono le due spiegazioni a mio parere cioè la prima è riguardo alla morte non l'avrebbe mai salvata perché perché poi sarebbe morto lui a sua volta completamente d'accordo eh perché lui è un tipo ossessionato non è che sono completamente d'accordo appunto ossessionato ma secondo me è la è la la brama di cioè capito di possedere è anche vero che ci fanno presente che in episodio 6 si sacrifica per un figlio che non conosce quindi in realtà per lui il legame parentale scusa un momento scusa un momento ragazzi guardate che no dico un attimo alla chat perché non è che lo sto dicendo perché io voglio giustificare questo film no lui l'ha odiato mi fa schifo però lo dico perché secondo me è così non è attenzione perché Giovanni è la prima volta in i 11 live che dice mi fa schifo attenzione io non mi io non mi triggero facilmente però quando poi mi triggero mi girano un po' ecco i cosiddetti comunque comunque no invece per quanto riguarda le ferite eccetera noi sappiamo anche lì ovviamente e potevano dirlo nel corso del film perché come al solito io dico basta sempre una battuta per poi giustificare le cose non spiegate noi sappiamo che anche già all'epoca dei prequel esistono pochi rarissimi e anche durante l'epoca dell'alta repubblica esistono pochi rarissimi i Jedi che hanno questo potere che appunto è prerogativa di pochi in grado di curare ma curare delle lievi ferite appunto non di non di riportare in vita dalla morte come ad esempio succede tra Ray e Kylo Ren poi in quel caso probabilmente probabilmente la resurrezione è data dal fatto che sono parte della diade la guarigione è un'altra cosa poi è tutto mescolato come un enorme minestrone sì però ti chiedo anche ci sono dei Jedi che hanno questo potere ma lui era il prescelto e non ce l'ha infatti quindi ci vediamo una sottotrama che nel episodio 3 lui vuole diventare maestro a tutti i costi perché i maestri possono avere accesso all'holocron agli gli holocron Jedi e Sith nascosti nei volte e qui si dice che c'erano i testi oppure comunque gli holocron da cui Ray ha preso però è una sottotrama che nei film nei pregoli non è spiegata in una trilogia originale non è spiegata qui non me l'hai spiegata salta fuori che Ray ha letto questi testi e ha preso questo potere che poi si adiade eccetera comunque l'ha preso dai sacri testi dalle sacre scritture di Luke Skywalker che aveva preso in giro anche Anakin si sa che voleva trovare questi holocron però non mi hai mai spiegato dimmi una frase come dice Giovanni che mi spieghi che allora magari posso contestualizzarlo chiudere un occhio in più però senza consigli non ce la faccio il fatto che fa abbastanza ridere non da un Jedi ma comunque ti cura le ferite con qualcosina la sapranno eh mi scusi signor Obi-Wan io vedo mia moglie che lì mentre parto un po' sofferenza morendo non è che possiamo non da un Jedi ho visto ho visto persino Baby Yoda gaspiterina che poi fosse stato un potere esclusivo della diade vabbè che poi questa diade mi spiegati che cazzo mi spiegati che cos'è la diade è una cosa che è Lara Mattia non lo so neanche loro l'aveva creata Snoke o sbaglio non l'aveva mica creata Snoke no no è una cosa che c'è è il Beclob è il Rebbe è la triade sono praticamente gli dei di morti abbiamo esatto era la trinità prima poi è diventata una diade così a caso è diventata la diade ma sono comunque in tre vi ripeto abbiamo Papadink che è lato scuro Rey che è lato chiaro ben solo che alla fine sparisce si vanisce perché è in equilibrio quindi rimangono in tre ma si crea sulla base di cosa perché se vedete episodio 8 anche il contatto mentale tra i due era creato da Snoke questo muore e il contatto addirittura si evolve e adesso riescono a passarsi gli oggetti come è trascendono lo spazio secondo me ci ha preso ben Victor non lo sapevano neanche loro non lo sanno neanche loro ma non lo sapevano no io penso che la scena più bella sia palpati nella fine con tutti quei sit che boh da due senza contare che questo mi sono nascosto da solo no con un'intera popolazione che mi ha costruito l'astronavi ma vabbè da quanto cazzo di tempo erano qui lì sotto il ghiaccio da aspettare ma non solo non solo la scena più bella che sembra una cazzata ma per me proprio ripeto è il segno che neanche ci hanno provato sono tornato quello di un tempo e ti ha anche comparso una bellissima vestaglia di raso la vestaglietta è una roba ridica è una roba ridica è una roba ridica no ma vi dico anche questa vi dico anche questa loro sono bloccati là dentro no con tutti gli star destroyer super incazzati non possono uscire però poi uno esce e distrugge un pianeta ma perché non escono gli altri tra l'altro tra l'altro ma poi te la telecosi non hanno mai capito c'erano le astronavi grosse come campi da calcio non le hanno mai captate ma la cosa più bella è quando su twitter qualche settimana dopo il film usci una sull'account ufficiale di star wars tra l'altro uscì un'informazione ok dicevano lo sapevate che sul pianeta in cui si è vuggiato palpatine c'era una popolazione che era completamente asservita all'imperatore e che con i padri che crescevano i figli sull'astronavi per farne dei bravi costruttori e sotto c'era la risposta di Elijah Wood ed era lui perché era quel verificato no no come cazzo avrei potuto saperlo se non me l'avete letto nel film questo è un momento elicotizio è la dimostrazione estrema di quanto loro reputino il pubblico o i fan di star wars dei deficienti a me è quello che mi ha fatto rabbia perché a quel punto lì ti giuro ero al cinema e ho detto dai alla fine le voci Anakin c'è il re in difficoltà mi fanno apparire cinque fantasmi Miss Windu Anakin Ahsoka me li fanno apparire per un secondo che si uniscono mentre lei combatte appaiono questi fantasmi e secondo me il 95% delle persone si dimentica di tutto il resto no neanche quello le voci hanno proprio perso un'occasione hanno proprio perso un'occasione infatti io continuo a dire che l'episodio 9 è l'inganno finale di questa trilogia cioè che ti mette di fronte sfrutta il fatto e pensa anzi l'episodio 9 è proprio l'ennesima dimostrazione che molti hanno pensato che siamo tutti dei pirlotti che ci dimentichiamo due secondi siccome l'immagine è carina come i bambini piccoli che se tu gli metti l'immagine carina si sono dimenticati tre secondi prima di cosa hanno una soglia di attenzioni tre quattro secondi e poi dopo guardano da un'altra parte l'immagine carina allora mi dimentico tutto prima no non ce lo dimentichiamo non ce lo dimenticheremo non è che vi vi mettiamo al muro per sta roba qui ci mancherebbe altro stiamo parlando di film però è stata una grandissima delusione tutta questa trilogia gestita male fatta male finita peggio ma la battuta di anakin riporta l'equilibrio come feci io si quale fa abbastanza ridere altri super chat abbiamo davide percivalli in sala da me al momento del bacio risuona un portentoso ma va a cagare unica volta in vita mia che urla in una sala contro un film mi è capitato almeno un'altra volta Bif Trifola Palpi era in ospedale quando è nata Ray ma si anche questo fatto del figlio di Palpatine che queste nanicote no non è un figlio è un clone riuscito è un clone riuscito male si ma l'hanno detto dopo che era un clone cioè nel film è un figlio infatti ci facevamo le domande ma quando è che la conoscete ma chi è ma scusa ecco io questo ancora non l'ho capito chi me lo sono perso questo era un clone riuscito male perché non è più clone ma strand e cast sono chiamati ora rettificato di nuovo un intruglio genetico in poche parole un intruglio genetico praticamente dei cloni modificati geneticamente che non sono uguali di aspetto ma hanno il DNA dovrebbero conservare la forza Snook ha la forza ma deturpato il padre di Ray non aveva la forza ma poteva procreare non si sa perché non avendo la forza comunque l'ha trasmessa alla figlia tutto il potere della matrice ma che fine ha fatto lui? perché sai che c'è il salto generazionale tipo se tuo nonno è calvo col nipote calvo esatto quella logica esatto ma quindi è un clone di Palpatine ma poi scusa praticamente come Snook solo che praticamente non ha la forza non è sensibile alla forza ma di aspetto è giusto hanno preso il DNA di Palpatine non l'hanno clonato esattamente fisicamente uguale ma è preso il DNA di Palpatine anche lì perché non può essere figlio perché metti che l'ha anche lato insieme a The Mandalorian 9 IBY non può avere l'età che c'è perché rinasce nel 15 ma probabilmente alla crescita accelerata sicuramente infatti per quello che dico che non può essere figlio genetico le critical legends ah che merda c'è una storia dove ci sono i cloni di Palpatine beh ma questo è uguale a Dark Empire questo film è uguale abbiamo i cloni di Palpatine abbiamo la flotta dei distruttori di mondi abbiamo Palpatine che fulmina tutta la flotta della nuova repubblica che qua è quella della flotta della galassia insomma è uguale e poi il bello il bello che dicevano no no ma noi abbiamo sì abbiamo preso spunto così abbiamo letto abbiamo studiato sì per copiare e farlo peggio perché il fumetto era fatto meglio sì ma poi ma poi che cazzo di piano è cioè io mi immagino questi che hanno clonato il film così dai dai cresci in fretta perché devi andare a scopare perché adesso bisogna fare un'altra erede ma scusa un secondo ma che piano è? no ma a parte che c'è un'altra scena meravigliosa c'è Palpatine che sta cercando Ray la madre dice no non è su Giacou e non andranno più a controllarci si fidano ok lei ci ha detto che non è lì basta non è lì oppure il piano di Palpatine che muta nel corso del film all'inizio vuole uccidere Ray perché dice a Kylo più volte uccidila poi lei arriva viva davanti a lui e allora lui è interdetto non sa bene cosa fare e dice vabbè dai tu cidi me così io entro nel tuo corpo che anche lì ecco riguardo riguardo a questa cosa se posso questa è una delle poche cose che salvo del film e non cominciate a dire che sto giustificando dico in chat che sto giustificando perché ripeto no no perché mi ecco comunque fatelo arrabbiare secondo me Palpatine all'inizio stava semplicemente perculando Kylo Ren nel senso nel senso tu vai a ucciderla poi se la uccidi torni da me e io ne approfitto vedo che sei tu il più forte il mio spirito trasmigra dentro di te se invece arriva lei perché evidentemente è più forte lei di te io faccio la stessa cosa con lei ma è comunque esilarante perché quando lei dice no allora ti uccido anzi vi uccido tutti e due li sta uccidendo tutti e due e si rende conto che ma voi siete una diade scusa ma l'aveva mica creata Snoke che sei tu vabbè voi siete una diade allora non vi uccido più vi risucchio tutto così ritorno io ma la coerenza del piano di quest'uomo perché anche lì Snoke non è lui in realtà cioè è come se Snoke fosse creato da lui ma un'altra personalità cioè ha memorie proprio è un casino ragazzi è un casino come un baccellone Snoke ma poi nella versione per l'immagine i fan di Star Wars si bevevano qualsiasi cosa ma sì ma io me l'immagino loro che mangiano una piadina nel tavolo di produzione cosa facciamo basta che c'è Star Wars i ragazzi comprano fai batte con la scritta guarda che è una macchia di piadina sul fumetto quella lì va bene prendi lì mettiamo quella scena cosa del genere per me è proprio ma tra l'altro la cosa di della Diad è stata cambiata in corsa perché prima Palpatine lo sapeva nella versione precedente e aveva un pochettino più di senso più o meno perché poi lo diceva se non sbaglio lo diceva Kylo Ren quindi che che senso ha che tu un segreto che potresti sfruttare a tuo vantaggio dopo di che hanno cambiato il film ha detto no facciamo che Palpatine non lo sa che tra l'altro come faccia a non saperlo lui ma come perché lo sa invece Kylo Ren tra l'altro perché lo sa Kylo Ren boh è un film di telefonate è un film di telefonate sono tutti capito è un film dove la gente improvvisamente scopre le cose così con una telefonata capito improvvisamente Ray arriva lì cinque minuti addestrata fantastico più potente di tutti a quell'altro prima che gli dice qui avevano talmente voglia di sovvertire le aspettative che ogni tre minuti c'è un reveal che quando gli dice tu sei tua nipò sembra beautiful cazzo è Star Wars ogni due per tre sono tuo nonno vorrei fare quello che non ha fatto tuo nonno quell'altro nonno farò meglio di te con la scherma di vato con quell'altro che è buttato lì cosa la maschera tutta rotta io veramente perché ho tentato fino adesso di rimanere calmo ma ogni minuto ogni minuto di più io non rieco non rieco non ce la faccio più proseguiamo con le super chat perché sono tante tante danno tanti spunti Starlight E.O. ci dice il pugnale uguale pietre triple dei Goonies anche il pugnale esilarante che combate esattamente con le macerie ma solo in quel punto lì perché se erano un po' più là quando l'hanno intagliato erano pure dopo anche lì la storia se la volete è una storia bella intricata ma sostanzialmente O.C. è stato incaricato di recuperare Ray e di recuperare il puntatore per andare su Exegol lui cosa fa prima va a cercare il puntatore lo trova cosa fa però non posso segnarmelo sul navi computer perché metti mai che qualcuno mi scopra magari c'è Luke Skywalker sulle mie tracce no così allora cosa fa incide quel pugnale antichissimo lo incide in modo tale che la forma sia identica alle rovine no e dice così poi torno si segna sulla lama la posizione ma il bello che si segna addirittura è nella lama il segreto ma i post-it non li avevano un post-it a parte quello ma dico ma sei tu che ti sei inciso quella roba sulla lama devi pure scriverti nella lama il segreto pensi di non ricordartelo era un po' non smemorato pensi di non ricordartelo detto questo va a prendere Ray rapisce i genitori li ammazza no no non è su Giacù ok e adesso dove vado e va su Pasana così a morire come un pino sì no no è una roba mamma mia ok poi abbiamo Sean ma che ci osserva e ci ascolta oddio inquietante detto così Marizan genitori di Ray rest in peace ciao poveri eh purtroppo sono morti eroicamente però eh ma non erano morti per bere no 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 Kylo aveva mentito era stato molto capito quindi aveva mentito anche lui tanto mente qualcuno quando non c'è risposta qualcuno mente tanto poi può sempre dire che mente o puoi dire anche che hai detto la verità no mi ero perso mi ero perso a quando Brooke aveva divorziato da Ridge ma forse ho ho sbagliato serie credo che di aver sbagliato serie perché a un certo punto è stato difficile poi abbiamo Steel Luke Palpatine prima stava distruggendo un'intera flotta con i fulmini e poi schiatta per due spade incrociate qualcuno può dirli che i fulmini si possono fermare dopotutto sei solo il signore dei Sith vi dirò di più Ray quando lancia il fulmine distrugge il convoglio Palpatine li disattiva e basta e dovrebbe essere un grandissimo ne distrugge una sola ne distrugge una sola che è la nave di Leia di episodio 4 sì evviva grazie ricordiamoci che poi tra l'altro 20 minuti prima 20 minuti prima con le manine tutte rotte perché ovviamente lui all'inizio ha le mani tutte rotte ricordiamoci che lui ha fatto così e ha tirato su uno Star Destroyer dal ghiaccio ricordiamolo questo 20 minuti prima no no uno tutti tutti sì 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 tutti tirati fuori dal ghiaccio poi però poi però cioè allora siccome poverini quelli della ribellione cioè devono devono provarci almeno facciamo almeno che tutti tutti gli altri devono partire se non fosse per un'antenna di merda messa lì così anche lì una anche lì un'antenna no ma lì abbiamo raggiunto livelli paradossali cioè l'hanno menata no la morte nera ci aveva il bucherello ragazzi distruggerli basta che spari al cannone cioè il loro punto di forza è il loro punto debole ma chi è l'ingegnere che ha costruito sta roba lo stesso dei ponti senza corrimano è un deficiente e no poi c'è l'antennina e se fuori l'ammiraglia nessuno sa più cosa fare oh ragazzi che facciamo e se gli spari al laserone esplodono ma che cazzo di super star destroyer sono sono ridicoli poi fino a due anni prima fino a due anni prima a parte già il fatto del salto del passare dalla morte nera a convertire il nucleo di un intero pianeta a farlo che poi diventa una stella poi invece ci sono tutti gli star destroyer col potere della volante però attenzione non dei nuovi star destroyer in pratica hanno preso delle fiet tipo degli anni 90 e gli hanno messo una ghettina in sopra perché l'idea perché Palpatine è un nostalgico allora prendiamo una fiet tipo di quelle a due volumi e poi gli diamo una ghettina in sopra e li facciamo come la morte nera per fare la morte nera tutta la sottrazione di cristalli kyber qui come hanno fatto nessuno l'ha notata questa cosa boh hanno potenziato i cristalli kyber sono democratici come la forza però devi essere una skywalker una Palpatine devi soprattutto sentirti tutti i g di dentro su questo possiamo soprassedere ci sono cose peggiori ma ci sono ci sono cose peggiori sì ma soprassedere perdonatemi ma no è una roba ridicola ci hanno fatto un vero film per giustificare una roba che non era neanche un buco di trama per me e adesso le nuove armi fortissime hanno tre difetti strutturali non uno tre l'antennina se distruggi l'antennina vanno in merda se distruggi l'ammiraglia tutti gli altri e se distruggi il cannone che la loro arma principale esplodono la faccia di soprassedere è una puttana amorosa non è tanto il soprassedere il problema è che questo che dice Mattia è un millesimo delle cose che non ti fanno credere a quello che vedi eh cavolo dai io sono fortunato nella mia testa perché nel mio piatto della bilancia le scene belle effettivamente erano talmente belle che non ho voluto vedere il resto ma obiettivamente in questo film ci sono troppe cose che non hanno alcun tipo di spiegazione che ti scalciano fuori dalla credibilità del film capisco che è Star Wars capisco che è fantascienza però deve esserci un limite non tutto quello che ti dimostrano e che ti mostrano a cui non trovi il senso cioè dopo un po' non ci stai più veramente eh no eh no poi abbiamo eh signor D due parole sulla sceneggiatura di Trevorrow francamente non l'ho letta eh secondo me sì io l'ho letta ho letto sia il riassunto sia proprio tutto il file della sceneggiatura allora meglio di episodio 9 così come è venuto fuori mh qualche cagata ce l'aveva tipo Kylo Ren che era il responsabile della morte dei genitori di Rey all'età di 16 anni mh ok eh secondo me uno dei motivi per cui hanno licenziato poi Trevorrow è stato che era una sceneggiatura che sarebbe stata sicuramente vietata ai minori di Tot perché c'era il generale Hux che diventava il cancelliere Hux che si suicidava con la spada viola di Mace Windu eh c'era Rey che veniva fuori da dove male è perché c'era Coruscant c'era Coruscant usava il vecchio l'ha recuperata presumibilmente sì comunque lui praticamente avrebbe avuto nel suo ufficio tutta una serie di reliquie Jedi Sith eccetera no poi c'era una scena con una decapitazione tramite una ghigliottina laser e c'era infine Rey che veniva accecata cioè Kylo Ren la accecava con la spada laser proprio gliela infilava negli occhi sai non è il massimo e quindi già questi tre questi tre punti secondo me hanno fatto sì cioè gli avranno detto eliminali perché sono troppo pesanti per un film per famiglie e avrà detto di no e ciao devo dire anche una cosa io di questa di Trevor io mi sono abbastanza informato non tanto quanto Giovanni però c'è una cosa con cui parlavo col signor Giacomo che per l'appunto questa trilogia sequel non vediamo nessun pianeta dei prequel e di quello originale se non Tatooine messo alla fine perché si era dimenticati quindi Coruscant avrei voluto vederlo perché comunque Coruscant l'hai aggiunto anche alla fine della trilogia originale i festeggiamenti fammelo vedere un pochettino com'è messo perché sembra che si è andato distrutto in episodio 7 quando la capitale era la stia prime e quindi io di quello di Trevor salvavo qualcosa e sarei stato curioso di vederla avrebbe dovuto esserci anche Luke se non sbaglio Giovanni andare a caccia a Kylo Ren sì Luke che sostanzialmente era uno come fantasma che si manifestava a Kylo Ren però ci rivedremo esatto ma perché quella frase Johnson e Trevor avevano lavorato per connettere i due film anche la laghettino non sapevo mai cosa voleva la connessione era andata via per un attimo dicevo che sì dicevo che oltre a ci vediamo ragazzino c'era anche la scena di Ray e Po in episodio 8 che si salutano e si guardano un po' langwidi perché ci doveva essere un po' di di romance tra i due capisco sì 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 Leonardo Di Mauro c'è ancora una cosa che volevo dire ma balzo non me la ricordo quindi ok Leonardo Di Mauro sconcordo con Robby c'è un suo perché che mi attira non so cosa eppure sento tanto il fattore Star Wars detto questo grazie per la compagnia Marizan intuendo il peggio mi ero vista la recensione di Vic e meno male alla Ray Skywalker mi è uscito un sonoro vaffa e mi sono trattenuta che già avevo dato Tola Kuma Amar Kord Giacomo che smadonna contro Maso a facce di nerd grandi sapete cos'è è che loro nel finale tentano di ridare dignità dei personaggi ai personaggi iconici di Guerre Stellari che però li hanno appena distrutti è quello il discorso tentano di ridargli dignità come è giusto che sia di dargli dignità ma la dignità gliela dovevi dare nell'intero corso di questo film e soprattutto questi nuovi personaggi che avete creato figli del politicamente corretto figli del nulla infatti sono nulla questo è il problema ecco perché la gente è ancorata ai personaggi vecchi perché se il nuovo non ha niente da dire cosa devo stare lì a sentire niente allora fammi risentire quello che mi piace piuttosto però hanno dato la medaglia a Ciube almeno quello che l'aveva ricevuta prima infatti perché lì canonicamente sono ragazzi se seguite i campi li hanno cambiato almeno due volte perché forse questo era Legends nei Legends gli walkie non accettavano onorificenze per i loro atti di coraggio quindi lui la medaglia non l'aveva per quello poi invece gliel'hanno data nei fumetti nel canone non le accettano pubblicamente ok e invece qui gliel'hanno data privatamente nel canone è proprio una roba da meme che dovevano fare ci siamo ricordati Bagunza così ho conosciuto Matti Oskiri la disperazione più nera della galassia lontana lontana le 90 domande mi hanno fatto capire che non ero solo nell'universo e da allora non ho più abbandonato le sue live grazie a tutti grazie a te Bagunza è quello delle 90 domande devo dire che era stato un punto un video puntuale quello quello era ma perché è giusto è giusto così cioè uno fa domande e si aspetta delle risposte ma è giusto alcune sono arrivate poi nel materiale cartaceo non nel film o nei tweet esatto alcune alcune a onor del vero alcune anche nel film a mio parere però qualcosina qualcosina Starlight E.O. ci dice ma Luke che cerca gli olocron collando ma fatemi vedere questo piuttosto io l'avrei accettato fatemi vedere Luke Skywalker che cerca gli olocron con Lando cazzo me ne frega a me di vedere questa su Jakku che ripara le cose non mi interessa io voglio vedere Guerre Stellari appena morto l'imperatore in episodio 6 io voglio vedere Guerre Stellari non voglio rivedere non voglio vedere distrutto quello che ho visto prima per un uomo che non esiste oltretutto Luke non so per quanto gli ha cercati non ha trovato una minchia Kylo si è svegliato una mattina oh distruggiamo la tribù è così cos'è che va anche lì lo sapete è vero che quel pianeta è Mustafar è Mustafar il pianeta e compare quello della teologia prequel però non si capisce che è Mustafar ma da dove dovevo capirlo l'inquadratura iniziale che dura un secondo ci rendiamo conto che inizia su Mustafar e non scrivono che è Mustafar e non ti fanno vedere neanche il castello di Vader della fortezza il castello di Vader l'ha tagliato alla fine scusate ma quanto può essere importante Mustafar non è successivamente no no ma la tipologia di saga di esologia e hai aggiunto una trilogia l'esologia già existente citami ma infatti ero molto ironico cioè è inconcepibile comunque c'era anche la fortezza l'ha tagliata è che sia mai no non si sia mai sia mai Nicola Cancellara il ritorno di Palpatine vanifica il sacrificio di Vader per non parlare della profezia del prescelto più esce roba di Star Wars fatta bene più odio questa trilogia per il resto mi mancherà questa rubrica mancherà anche a noi RM pone una domanda che non ho compreso perché Palpatine qui e non in Rogue One in che senso no a livello a livello di timeline non viene mostrato era perfetto però ma Rogue One non era necessario alla fine hanno fatto vedere Vader l'han citato perché però ci sta perché Vader è il braccio destro che poi ci mette la faccia cioè ci mette il casco però non mi sembrava la presenza necessaria altrimenti poi il focus non sarebbe più stato sui nuovi personaggi ma su tutta la roba vecchia e Palpatine Vader e Tarkin un po' troppo oltretutto secondo me vista nell'ottica di una visione se vogliamo cronologica si crea anche un po' più l'aura di mistero cioè non lo vedi d'episodio 3 come sarà poi ha senso ha senso Giorgio Lucarelli ci manda una super chat senza domanda ma lo ringrazio per la donazione Roberto Belardinelli nel film la menano sull'accettare la propria natura sarebbe stato più interessante farle dire sono Ray Palpatine le mie origini non dicono chi sono Ray e basta anche sì paradossalmente io avrei preferito quella in assoluto visto che chiudi chiudi chi sei sono Ray boom ma sì anche perché nel primo film lei aspetta disperatamente i genitori e Mazganata le dice guarda che non torneranno mai nel secondo lei vede proprio nella grotta la visione che alla fine è solo è solo se stessa e caspita era il momento giusto per farle accettare che non ha bisogno né di guardare dietro né di guardare avanti ma che lei basta a se stessa ma anche quella visione in episodio ottima ci siamo fatti incastare quella roba poi abbiamo Antonio Luca Tartaglia per Giovanni avessero messo lo spirito di Palpatine che veniva trascinato negli abissi della forza dagli Skywalker secondo me salvavano il finale oddio un po' troppo ghost il film che finisce con i fantasmi che portano via lo stronzo sì un po' insomma insomma poi Jambu 1 la cura dei dettagli di questo film è dimostrata da Kylo che lascia la morte nera per andare su Exegol con l'unica nave senza iperguida sia anche la conversione di Kylo poi allora posto che lì si nota il tocco di Terrio a mio avviso perché la scena è identica a quella di Marta in Batman di Superman c'è la dinamica è quella c'è lui che sta per colpire e viene fatto un nome ben ben lui lì va in merda ma oltre al fatto che basti questo per convertirlo a me è sempre perplesso la scena con Han Solo quello non è un fantasma della forza giusto? no è un ricordo è tutto nella sua testa ma se è tutto nella sua testa che senso ha? è come la scena di Silente quella è proprio come Palpatine viene fatto fuori come Voldemort questa è come la scena di Silente è vero o sta accadendo nella mia testa? entrambe le cose no Henry in quel momento era tecnicamente sospeso tra vita e morte quindi in realtà sotto una certa chiave di lettura quel dialogo è avvenuto davvero in una sorta di limbo qui si è tutto nella sua testa ma la conversione che senso ha? cioè il perdono da parte del padre se non è vero cioè probabilmente questo muore Han Solo nell'aldilà che gli fa il culo ma perché l'inizio è copiato tipo ben solo Cailo Reni era morto nel combattimento con Ray quindi anche lì era stato il momento di morte che l'ha visto ci sono dei momenti anche in questo film cioè c'è quel momento lì appunto lì sul pezzettino di morte nera tra della vecchia morte nera tra le onde così c'è quei quei due secondi di silenzio con queste inquadrature così e poi arriva anche lì il montaggio e rovina tutto fammela durare tre secondi di più per Dio togli una scena inutile di Leila che dice ok che non c'entra niente in quel momento lì e lasciami tre secondi fammelo vedere questo patos non me lo fa vedere questo montaggio raffazzonato da rincoglioniti per ciò così ma non stava morendo quella roba lì ce l'ha inventata tutta lui è un montaggio sapete questo film questo film è montato per tiktok questo film è montato per tiktok con scene da un secondo e mezzo perché se no passi al prossimo tiktoker cazzo lui lui si autoconvince che il padre lo perdoni ma non è vero io me lo giustifico in un unico modo così che è una forzatura ovviamente però mi piace pensare che sia così perché mi tranquillizza un po' ti metti l'anima in pace esatto che diciamo la forza ok abbia voluto in qualche modo il volere della forza abbia mostrato concedere questo dialogo esatto abbia concesso questo dialogo perché era ciò che serviva per far sì che Kylo Ren tornasse veramente a essere ben solo e si perdonasse per ciò che aveva commesso bello mi piace anche se non è vero mi piace esatto esatto però a me piace credere che sia così ma è quello Giovanni il punto capisci che capisci che noi la grande la grande tristezza di questa trilogia è che ognuno di noi per l'amore spassionato che prova è come esatto è come quelle persone che dicono no ma a me piace credere che sia così perché tutti noi l'abbiamo detto almeno una volta oggi a me piace credere che sia così è meta cinematografico noi siamo come ben solo che vede il suo padre che lo perdona noi vediamo l'avete visto People vs George Lucas il documentario l'avete visto rappresenta in pieno tutto quello che stiamo dicendo da 11 puntate cioè rappresenta in pieno lo guardi la prima volta al cinema e dici ma è veramente brutto devo vedere un'altra volta perché non può non piacerti Star Wars e io in questo sono abbastanza un campione abbastanza poi ringrazio Game of Thrones scritto proprio come Tron per la reazione che grande ah pensavo come Tron il grande ammiraglio no 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 come Tron nel film lo ringrazio e poi abbiamo Alessandro Stamera il 20 dicembre 2019 durante il bacio Smadonna in sala e il bacio ha colpito ha colpito siccome credo veramente un cazzo di senso no 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 siccome credo ci dilungheremo io andrei direttamente con la classifica perché potrebbero esserci sorprese abbiamo dal basso verso l'alto gli ultimi Jedi l'attacco dei cloni la minaccia fantasma il risveglio della forza la vendetta dei Sith solo Rogue One il ritorno dello Jedi una nuova speranza e l'impero colpisce ancora quindi Giovanni dove lo mettiamo questo l'ascesa di ultimo ultimo eh subito si parte la grande quindi undicesimo posto Andros ovviamente come sempre lo ricordo del pubblico stiamo inserendo in una classifica che è questa perché non è la classifica personale esatto del mix di tutte le opinioni se io lo devo mettere in questa classifica difficile perché io l'avrei messo io in una mia classifica l'avrei messo prima di 7 8 semplicemente per quelle due tre scene ma qua 7 è troppo in alto per metterlo prima del 7 è troppo in alto in basso eh capisci quindi è difficile da è difficile da mettere per ciò che rappresenta ripeto io rimango coerente con tutto quanto penultimo penultimo quindi parliamo del del decimo posto di quello che sarà il decimo posto ok Roby attenzione che qui c'è il colpo di cena io lo metto dopo solo quindi al sesto posto sì interessante Emilio io per un impero più saldo e più sicuro lo metto al ultimo posto lì dopo ultimo posto attenzione che il colpo di Victor potrebbe rivelarsi decisivo Victor dove lo mettiamo l'ascesa di Skywalker mi sembra il certo non è la catena però direi ultimo quindi vince l'ultimo posto io l'avrei messo al penultimo ve lo dico però meno male siamo lì quindi l'ascesa finisce all'ultimo posto ebbene sì non ce l'ha fatto da scendere non capite niente non capite niente non capite vergogna intanto sto cercando di trovare posto nella classifica per metterlo ok ascesa eccolo qua sì esatto anche io lo metto penultimo semplicemente perché è come si dice tutti gli errori che ha sono derivativi perché per me il male assoluto è stato proprio il risveglio della forza perché il risveglio della forza ha fatto cominciare questo casino e quindi lui è il vero male poi dopo c'è stato il peggio che è stato gli ultimi jady che lì proprio ci hanno voluto duri dentro così abbiamo una classifica finale me l'aspettavo più combattuta non è vero però ricapitolando abbiamo l'ascesa di skywalker gli ultimi jady l'attacco dei cloni la minaccia fantasma il risveglio della forza la vendetta dei sif solo rogue one il ritorno dello jady una nuova speranza e l'impero colpisce ancora devo dire che come classifica nel complesso mi piace mi piace beh diciamo che è una classifica molto equilibrata perché rispecchia un pochino il parere di tutti anche se poi ognuno di noi alcuni magari li avrebbe messi in posti diversi sicuramente io però è comunque molto equilibrata perché dà un senso diciamo un po' a tutte le campane ecco quindi sono estremamente d'accordo con voi ci sta tutta non è la mia ma è comprensibile ciò detto abbiamo ancora dei minuti a disposizione quindi io vorrei tirare fuori un'altra cosa che non mi ha fatto dormire la notte però un altro dubbio che ho perché sì ok palpatine non ha senso che ritorna in vita siamo tutti d'accordo ma c'è un'altra cosa che sfugge alla mia comprensione personalmente il film inizia con il primo ordine che sta controllando l'intera galassia cioè la ribellione la resistenza pardon è ridotta a uno sparuto gruppo di elementi tanto è vero che persino la flotta che arriva alla fine quella con le presenze i celebri l'ando wedge è composta da civili che di spontanea iniziativa decidono di aderire alla causa ma palpatine esattamente che cazzo vuole cioè più di quello che aveva già cosa vuole cioè la galassia è sotto controllo del primo ordine il primo ordine è suo quindi cosa vuole di più un nome più figo era l'ordine finale l'ordine finale ritornare in un corpo più giovane e forte ok sì presumibilmente quello perché distruggere i pianeti che sono suoi no ma non è solo questo io la cosa che mi sono chiesto è ok tu hai creato uno strandcast che è tuo figlio biologico lo mandi a procreare dopo non lo trovi più quindi perdi anche che è il frutto carnale del suo rapporto fallo procreare lì sul pianeta così hai re la tieni sotto controllo quando poi stai per morire entri nel suo corpo basta già finisce lì se proprio vuoi un corpo giovane allora potrebbe essere così perché ci sto ragionando sul momento perché è una domanda che effettivamente c'è un tassello se vuoi c'è questo personaggio del generale pride mi sembra si chiami così che per tutto il film quando Kylo parla lo guarda un po' in cagnesco come voler dire perché sapeva già tutto lui è un uomo di Palpatine ok ma visto che Kylo accetta subito questo è un altro problema del film secondo me Kylo che accetta subito cioè trova Palpatine accetta quindi perché Palpatine non si è manifestato a lui fin dal principio cioè perché usare i snok come burattino questo è un'altra cosa che non capisco il primo ordine non erano mica residuati bellici dell'impero sì fedelissimi a Palpatine immagino ragazzi sapete che c'è sono ancora vivo ma non sono ancora in forze scusa un secondo una cosa ragazzi generale alleante è il grado alleante non è il nome pride è il nome enric pride me lo sono chiesto anche io che cazzo fosse il generale alleante è il generale pride è come i moff è un grado sì allora il ruolo proprio del generale alleante sarebbe un generale che ha il comando sia di truppe di terra sia di truppe spaziali ok e quindi una traduzione diciamo tecnicamente corretta a livello militare sarebbe generale interforze però alleante perché non c'era altro modo di dare un nome decente purtroppo se siete d'accordo o scusa non avevi finito perdonami no 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 dicevo solo che sì la questione di palpatine ok lui aveva bisogno del corpo fisico però per il resto sì perché fare questo casino magari ancora possiamo dire perché ben solo si sarebbe fidato di qualcuno che non sapeva essere palpatine magari la questione di snock ok aspetta ricapitolo allora l'impero allora palpatine il cancelliere diventa l'imperatore l'impero domina la galassia la ribellione distrugge l'impero poi palpatine di nascosto fa nascere il primo ordine perché è stato un terrore per la galassia per cui giustamente ripartire con palpatine sarebbe stato un problema e poi non era ancora in forza per cui crea un surrogato moderno più curato da pini in farina dell'impero che si chiama primo ordine comandato da un suo clone che a sua volta ha sotto di sé un imbecille che si chiama Ax ok questo è più o meno nonostante tutto riescono a riconquistare la galassia il primo ordine conquista la galassia nello stesso tempo lui nascosto da se stesso crea l'impero per distruggere chi infatti è quello che non torna ma non torna neanche la necessità di creare un burattino perché comunque erano tutti realisti imperiali di Palpatine ok non puoi manifestare bastava una cosa bastava una cosa nel momento in cui allora lui riacquista il corpo si manifesta come capo del primo ordine non serve l'ordine finale ma anche dal punto di vista di Kylo lui era ossessionato dalla figura di Vader non gli sarebbe piaciuto farsi addestrare dallo stesso maestro di Vader questo dopo la caduta al lato oscuro prima perché Snoke lo stava già traviando da prima e prima non si sarebbe mai fidato di Palpatine ma di Snoke sì perché perché Snoke poi gli aveva raccontato un sacco di balle su Luke eccetera però dove viene detto nei film non viene detto guarda volevo volevo se Matioski me lo consente sono super chat sono state 11 settimane bellissime vi ascolterei parlare di Star Wars per ore che la forza sia con voi meravigliosi vi voglio bene che la forza sia con te esatto se Matioski me lo consente volevo leggere velocissimamente velocissimamente la mia classifica personale sono proprio è velocissima è personale questa è personale redatta tra l'altro una buona parte in tempi non sospetti prima dell'oscurantismo prima della merdilogia allora ultimo posto per me ultimi Jedi ultimissimo proprio l'ultimo sono d'accordo poi c'è poi c'è il risveglio della forza al penultimo per me addirittura peggio di l'ascesa il risveglio perché 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 è quella che per me ha fatto cominciare tutto poi c'è l'ascesa di Skywalker la minaccia fantasma solo attacco dei cloni Rogue One vendetta dei Sith nuova speranza e poi l'indecisione sempre tra impero colpisce ancora il ritorno dello Jedi al primi posti perché per quanto io apprezzi di più nel complesso l'impero colpisce ancora come vi avevo detto nel ritorno dello Jedi per me il ritorno dello Jedi è proprio la summa di di guerre stellari cioè di come l'amore possa risolvere tutto l'amore passionale lei ha solo e l'amore familiare di un padre verso il figlio di un figlio verso il padre Skywalker degli Skywalker quindi Fener e Luke Skywalker ma il concetto di equilibrio della forza alla fine che cosa significa grazie per questa fantastica rubrica la risposta è boh cioè in teoria con episodio 6 potevamo farci delle idee è tipo piacere abbiamo equilibrio disequilibrio disequilibrio quando il bene non sovraste male viceversa anzi in realtà adesso non è neanche così però è vero secondo George Lucas se vedete i film vecchi l'equilibrio è la sconfitta del lato scuro non esiste il lato scuro va sconfitto va debellato come l'egoismo che comunque va a deteriorare come un cancro come ho detto tutto il bene quindi quello era il suo concetto l'equilibrio non è presenza di due lati no no è rimozione del lato scuro poi è diventata presenza di due lati perché alcuni hanno notato che comunque Anakin per risolvere tutto deve cedere al lato scuro quindi c'è bisogno di un periodo di esperienza di entrambi i lati per arrivare poi alla sintesi finale che va addirittura questo è il finale del ritorno dell'OG di a cancellare tutto quello che c'era prima lasciando solo Luke come in teoria capostipite di un nuovo modello infatti in episodio 6 Luke appara abbastanza grigio ovviamente questa cosa la nuova trilogia sarebbe stato brutto vederla e adesso l'equilibrio boh che cazzo è non lo so allora secondo me la miglior spiegazione dell'equilibrio si trova in un fumetto molto breve dedicato non a caso a Qui Gon Jin che da sempre è questa personalità che è stata un po' legata al concetto di e adesso Giorgio il mio caporedattore mi sbatterà fuori J di grigio l'ho pronunciato e sono le parole proibite da noi comunque allora sostanzialmente viene detto che in questo fumetto lui ha un'esperienza molto onirica viene in qualche modo inglobato da una pianta è una roba strana comunque in poche parole lui si rende poi conto che l'equilibrio non è distruggere l'oscurità ma è mantenere come diciamo la pace ok perché l'equilibrio c'è dove c'è la pace invece il lato oscuro i sit in particolare no comunque chi utilizza il lato oscuro cosa fa piega il volere della forza al proprio egoismo appunto e in qualche modo turba questa pace della forza ok e quindi sostanzialmente è il seguire il volere della forza anziché piegarlo al proprio egoismo è vero Giovanni però in questo metto li vedi anche tutti i jedi che sono in faccia di battaglia che poi diventano questi arbusti che dicevi perché le guerre dei cloni porteranno l'intervento dei jedi quindi comunque è una pace che per tenere ad un certo punto causerai comunque un disequilibrio dovuto dalla luce troppo intensa è strano ormai non c'è più una vera risposta infatti nella mia fantasceneggiatura rapportata ad episodio 7 io avrei creato uno snok il cui piano era riportare quello che secondo lui era l'equilibrio cioè a suo avviso Vader non aveva portato l'equilibrio ma aveva sbilanciato troppo a favore del lato chiaro perché comunque Luke aveva l'accademia non l'abbiamo mai vista ma si presume che in quella fase il lato chiaro dominasse la galassia lui voleva riazzerare tutto e creare un manifestante del lato chiaro e uno del lato oscuro in eterno conflitto la diade non ci voleva tanto ragazzi infatti infatti tra l'altro riguardo riguardo la diade qualcuno prima in chat diceva è la versione del lato chiaro della regola dei due e invece no e invece no perché la diade addirittura è il concetto da cui Darth Bane ha poi deciso di creare la regola dei due questo è retcon ovviamente a posteriori che non mi è piaciuto granché però sostanzialmente questa diade che cos'è la coppia di due individui che insieme formano l'uno ok non è spiegato tanto di più di così perciò chiedersi cosa sia fino a un certo punto è lecito farlo al momento comunque Darth Bane appunto cosa ha pensato ok i sit sono crollati perché erano tanti erano tutte in preda le lotte intestine eccetera bene allora diade quindi un maestro e un apprendista che di base è anche il concetto fondamentale dei Jedi un maestro e un apprendista sono retcon porcherie varie sì però ragazzi purtroppo ve la presento così come va benissimo io direi che siamo arrivati alla fine abbiamo un po' di tempo per i saluti quindi saluto e ringrazio Giovanni di Star Wars Libri e Comics che oggi era particolarmente incarognito nei riguardi di questa pellicola mirabile sì sì io solitamente sono più tranquillo infatti oggi magari ho anche un po' esagerato ma insomma una volta su 11 me lo concedo certamente io ho apprezzato io ho apprezzato Giovanni per dirti così grazie io ho apprezzato io saluto e ringrazio il signor Andros grazie mille il signor Matioschi a tutti i nostri ospiti come ho detto all'inizio è stata veramente un'avventura meravigliosa che mi auguro di ripetere presto con con altri con altre saghe che che sono nel nostro cuore ma è proprio di cuore che vogliamo parlare perché io spero che in queste 11 puntate che abbiamo visto tra l'altro Matioschi ha avuto un'idea meravigliosa di questa retrospettiva è qualcosa di straordinario mi hai regalato ancora una volta l'entusiasmo per Guerre Stellari perché l'entusiasmo per Guerre Stellari alla fine abbiamo visto cos'è non solo l'amore per il brand ma il fatto di stare insieme ad amare il brand e parlarne insieme questa secondo me è la cosa più bella per il resto Guerre Stellari è finito con episodio 6 rimanete sempre croccanti il resto è fanfiction salutiamo esatto Robi Rani grazie veramente per l'invito tra l'altro io mi sono preso praticamente tutti i mercoledì quasi di ferie per fare questa cosa fortunatamente me lo potevo permettere ma questo per farvi capire quanto mi sarebbe quanto mi piaceva fare questa cosa ne è valsa assolutamente le pena per cui speriamo ci siano altre occasioni mercoledì prossimo parleremo di Harry Potter andremo avanti poi il signor degli anelli Lobby ti ritorno al futuro vi dicendo purtroppo non sarà così grazie veramente è stata una figata pazzesca e tanto fra un po' ce n'è di roba da parlare ma ce n'è te e voi salute ringrazio Emilio ragazzi è stato un grande onore io vi adoro mi sono divertito tantissimo a vedervi sfollare sfollare insieme sfollare contro quindi è stato veramente un percorso che ha giovato per me e arrivare al momento dei saluti è un po' dura un po' dura perché ci vedremo ci sentiremo comunque ma facciamo tipo il Marvel Cinematic Universe adesso saremo magari due a due sugli altri canali abbiamo già fatto un sacco di cose magari dobbiamo fare delle ospitate interbrand sarà poi però l'evento corale che dobbiamo aspettare un po' quindi lo pompiamo un po' The Avengers e poi torneremo insieme tutti noi sei nella cantina esatto perfetto saluto anche Victor Laszlo 88 che è rimasto con noi parecchio quest'oggi grazie fino alla fine sono riuscito io chiedo scusa se non sempre riuscivo molte volte stavo solo un po' però purtroppo il lavoro il lavoro non delle balle oggi è una giornata tranquilla mica tanto perché ho lavoricchiato cioè ho fatto delle cose anche durante mentre stavo in silenzio quando parlavo agli altri però sono riuscito a gestirmela quindi mi ha fatto molto piacere le prossime si sa già quali sono segreto segreto io ho già deciso la prossima ma sarà una sorpresa bene bene quindi buon salve signori buon salve esatto grazie per essere stati con noi in questa vera e propria epopea star warsiana c'erano un po' di dubbi alla vigilia perché in tanti mi avevano scritto ma vabbè ma cos'altro c'è da dire se ne è parlato fin troppo che barba che barba e invece e invece non se ne parla mai fin troppo è questa l'unica grande verità è stata molto apprezzata come rubrica quindi vi ringrazio rispondo alla chat non ci saranno votazioni per la prossima saga l'ho decisa io per i fatti miei e vedrete ciao a tutti ciao che la forza sia con voi grazie mille sempre che la forza sia con voi ciao ciao a tutti